e ciao a tutti ragazzi vi do il benvenuto in questo nuovissimo video purtroppo anche oggi non posso mostrarmi in viso ma comunque sia vi volevo comunicare che finalmente sono tornato alla base di conseguenza e da domani ovviamente rincominciamo con i soliti video mattinieri dove andiamo ad approfondire il mercato delle criptolute in questo video ragazzi è un video appunto straordinario infatti purtroppo stamattina non ho potuto registrare ma ragazzi con quello che è successo nelle scorse ore non posso aggiornarvi su quello che sta succedendo e soprattutto su quello che potrebbe succedere nella giornata di ieri abbiamo assistito ad un tracollo letteralmente del mercato cripto infatti se andiamo a contestualizzare la cripto total market cap siamo passati da 1.79 trillion dollar per poi perdere un 12,24 per cento in pochissime ore e anzi in pochissimi minuti perché in realtà la maggior parte di queste performance negative le abbiamo fatte in pochissimi minuti ok performance che come possiamo vedere sia nella giornata di ieri che con la giornata di oggi abbiamo riassorbito ma questo andremo a contestualizzarlo a brevissimo questo movimento qui ragazzi è stato a mio modo di vedere molto probabilmente una manipolazione di mercato per andare a buttare fuori dal mercato stesso un sacco di player che erano rialzisti e questo ovviamente ve lo andrò a dimostrare con vari parametri in base alle liquidazioni ma cosa è successo nel pratico nel pratico ragazzi è stato pubblicato da matrixport che non è altro che una un'azienda in realtà della tipo tipo nexo infatti se andiamo a vedere tipo i products mettono a disposizione learn investment la possibilità di fare appunto trading comprare cripto eccetera eccetera è un po' appunto come se fosse una piattaforma di lending e borrowing quindi ragazzi non stiamo parlando di una piattaforma o comunque sia un'azienda basata sulle analisi di mercato seria come potrebbe essere ovviamente anche cripto quanto o comunque bloomberg analytics eccetera eccetera stiamo parlando una specie di nexo cosa diceva all'interno di questo report diceva che appunto secondo gli analisti di matrixport prevedono la possibilità che la sec rifiuti tutte le applicazioni degli etf spot è molto alta ma quali sono le motivazioni le giustificazioni che hanno portato ovviamente gli analisti di matrixport a questo esito in pratica hanno evidenziato che cinque commissari votanti sono democratici ok stiamo ovviamente parlando della sec ai democratici non piace il mondo cripto i candidati non hanno soddisfatto i requisiti della sec e anche qui ragazzi non so quanto possa essere attendibile veritiera questa cosa anche perché sappiamo benissimo quanto le varie application siano state aggiornate proprio in relazione alle richieste della sec stessa che poi non siano completamente in linea è un discorso però comunque sia stiamo avanzando parecchio proprio dal punto di vista delle aggiornamenti soprattutto per ciò che riguarda il comparto tecnico e il funzionamento appunto di questi etf spot e secondo loro non esiste una giustificazione politica per approvare un etf spot su bitcoin questo cosa ha generato sui mercati io ragazzi vi dico la verità stavo guardando il cellulare quando ho assistito a queste candele pazzesche soprattutto sia su bitcoin ma come potete capire anche su l'intero mercato cripto soprattutto le altcoin che ne hanno risentito molto di più rispetto a bitcoin sapete benissimo che diciamo bitcoin è un po il benchmark per quanto riguarda il mercato cripto ed essendo molto più capitalizzato rispetto alle altre altcoin ovviamente perde meno a livello percentuale nonostante ciò però comunque sia potete vedere che abbiamo assistito ad una candela con una performance del meno 8,92% praticamente in pochissime ore ha perso il controvalore di 4.062 dollari passando da 45.500 dollari circa fino a 41.460 ovviamente questo dipende anche un po dai vari exchange che andiamo a monitorare appunto bitcoin possiamo vedere che ragazzi questa movimentazione ha fatto crollare l'open interest e l'ha fatto passare da 12,2 billion dollar fino ad all'incirca a un 10,43 facendo appunto perdere un 14,45% di conseguenza spazzando via dal mercato ovviamente degli strumenti derivati che operano su bitcoin e prevalentemente su bitcoin circa 1.76 miliardi di dollari ovviamente come abbiamo visto il prezzo ha ristornato verso l'alto passando ovviamente da 40.678 dollari fino al prezzo di anno nel momento in cui sto registrando a 44.092 dollari praticamente ha riacquisito non dico tutto ma almeno un 60-70% di questa performance negativa che avevamo visto ieri questo ragazzi è palesemente una manipolazione di mercato che poi sia stata indotta volutamente proprio da Matrixport o chi c'è dietro appunto Matrixport questo non ci è dato saperlo però ragazzi come potete vedere questa movimentazione ha spazzato all'incirca ha liquidato circa 591,48 milioni di posizioni long che ovviamente erano aperte durante la giornata di ieri durante appunto la sessione di ieri per quanto riguarda il mercato cripto ragazzi interessante andare a prendere tuttavia in considerazione la liquidation heatmap perché abbiamo spazzato proprio a livello pratico qui lo possiamo vedere e palpare con mano tutti quelli che si erano posizionati ovviamente long ok infatti tutte quelle persone che erano magari posizionate a 44.800 o al di sopra appunto di questa cifra sono stati spazzati letteralmente via andando a liquidare tutti questi ordini a fare piazza pulita proprio di questi player a mercato andiamo a vedere però la price action proprio di bitcoin bitcoin possiamo vedere che ha reagito esattamente nella zona all'incirca dei 41.594 ok infatti possiamo vedere che attualmente questa zona è di forte interesse sul medio termine per ciò che riguarda appunto una visione più ampia di range proprio di bitcoin infatti possiamo vedere che è stata utilizzata come punto di rimbalzo il 26 dicembre è stata utilizzata tra il 29 e il 30 dicembre e anche nella giornata di ieri ragazzi è stato un punto di ripartenza proprio dell'asset di bitcoin se andiamo a prendere un grafico a 4 ore possiamo vedere che non siamo assolutamente messi male anzi bitcoin pare che proprio nell'ultime ore stia reagendo sulla soglia dei 44.299 che è un po' diciamo la parete superiore proprio di questo range che si è generato a partire da inizio dicembre dal 4 dicembre 2023 ovviamente se andiamo a escludere questa rottura qui che poi in realtà è stata subito riassorbita e di conseguenza ragazzi i livelli che bitcoin sta mantenendo e soprattutto che fanno fede proprio sulla price action proprio di bitcoin possiamo prendere in considerazione la parete superiore dei 44.300 dollari e la parete inferiore dei 40.600 dollari circa ragazzi non è cambiato assolutamente nulla diciamo che molti player sono stati liquidati e di conseguenza manipolati da queste movimentazioni ma con questa ripresa qui che abbiamo assistito nelle ultime ore evidentemente sia stato un giochetto diciamo sporco per liquidare certi player a mercato andiamo a vedere la bitcoin dominance perché evidentemente possiamo vedere che durante la giornata di ieri abbiamo avuto praticamente una candela, una doji sulla bitcoin dominance che in realtà non ha moltissimo senso anzi queste qui si presentano quando abbiamo panico o fomo all'interno dei mercati infatti non abbiamo una direzionalità ben precisa però possiamo vedere che attualmente nelle ultime ore, nell'ultima giornata bitcoin è quello che si è comportato meglio rispetto alle altcoin infatti se noi andiamo a prendere in considerazione ethereum diciamo che ha avuto un grosso dump dump che se confrontandolo con quello di bitcoin è almeno di un 40% barra 30% più ampio infatti le altcoin diciamo che ne hanno risentito di più ovviamente è normale perché sapete benissimo quanto i forti ritracciamenti soprattutto i dovuti da situazioni di panico all'interno dei mercati ne risentono 2 barra 3 volte tanto ovviamente dipende da che asset class in relazione al mercato crypto andiamo a prendere rispetto ovviamente a bitcoin comunque nonostante ciò anche ethereum ragazzi ha reagito e soprattutto ha mantenuto la soglia inferiore di questo triangolo di questo rettangolo di compressione che a livello di chiusure si trova a 2173 dollari circa ovviamente se andiamo a prendere le spike dobbiamo andare a contestualizzare un grafico almeno almeno a sulle 4 ore che ovviamente possiamo andare a prendere in considerazione come questa appunto fascia rossa che è stato lo scoglio più importante ovvero la parete superiore di questo triangolo di compressione che vedevamo tra novembre ed inizio dicembre comunque anche qui per quanto riguarda ethereum la situazione risulta praticamente nulla ciò vuol dire che questa manipolazione qui non ha variato di un centesimo la situazione che già vedevamo qualche giorno sia su ethereum che bitcoin l'importante è che come ho detto prima è di non perdere la soglia dei 2173 dollari circa ovviamente ragazzi ho voluto farvi una panoramica un pochino più generale soprattutto per quanto riguarda le chart e la situazione che si è presentata durante la giornata di ieri sul mercato cripto soprattutto su bitcoin ed ethereum domani continueremo e soprattutto ragazzi ricordatevi che domani è venerdì e di conseguenza è l'altcoin friday fatemi sapere qui sotto nei commenti quale criptovaluta volete che vado ad approfondire appunto nella sessione di domani iscrivetevi al canale lasciate un like noi ci vediamo al prossimo video ovvero domani ciao ciao Grazie a tutti.